Entravano nei camerini e dopo aver tolto le placche antitaccheggio dai capi d'abbigliamento li indossavano uno sopra l'altro, praticamente si vestivano a strati. Con questa tecnica due giovani romeni di 25 e 26 anni erano diventati dei professionisti di questo tipo di furto, mettendo a segno diversi colpi in numerose province del centro e nord Italia. A mettere fine però alla loro carriera sono stati i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria di Pesaro, che li hanno colti in flagrante ed arrestati venerdì 26 gennaio all'interno del supermercato Iper Rossini di Pesaro per furto aggravato in concorso. I due, dopo un giro nel reparto dell'Alta Fedeltà e degli Alcolici, si sono concentrati sui capi d'abbigliamento e con la solita tecnica degli strati avevano indossato capi e capi uno sull'altro, entrando ed uscendo ripetutamente dai camerini di prova. Tutto questo movimento però non è sfuggito ai responsabili della sicurezza interna, che hanno subito chiamato i militari che li hanno bloccati e trovati in possesso dei capi, ai quali avevano già tolto le placchette antitaccheggio e si stavano apprestando ad uscire dal negozio. La berce rubata del valore di diverse centinaia di euro è stata restituita al negozio, mentre per i due sabato mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato il loro arresto e disposto alla custodia cautelare nel carcere di Villa Fastigi.